Musica 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 Nome? Massimiliano Da dove vieni? Ciampino La tua macchina? Capricorn Tuo motore? Navarossi Gomme? Capricorn Miscela? Runner Come speri che vada alla finale? Spero almeno di finirla Un saluto? Ciao a tutti Nome? Dante Da dove vieni? Vengo da Pescara Macchina? X-Ray NT1 Motore? Max Gomme? SRC Miscela? SRC Come speri che vada alla finale? Spero di divertirmi e che tutto vada bene Un saluto? Ciao Nome? Daniele Tulli Da dove vieni? Roma La tua macchina? NET1 Il tuo motore? GMAX Le tue gomme? Madrex Miscela? Runner Come speri che vada alla tua gara? Mi migliorare la posizione di partenza Un saluto? Ciao a Tampino Nome? Emanuele Adami Da dove vieni? Da Roma Macchina? X-Ray Motore? Mazzo Gomme? Hotter Race Miscela? Runner Come speri che vada alla tua finale? Spero vada bene e tutto imprevedibile A chi vuoi salutare? A tutti, con gli amici miei, ai miei familiari Soprattutto a Zio Pino che il team veleno è sempre più forte Nome? Daniele Petriaggi Da dove vieni? Da Roma Macchina? X-Ray Motore? Capricorn Gomme? Hotter Race Miscela? Runner Time Come speri che vada alla tua finale? Spero di finirla Chi vuoi salutare? Mio figlio Alessio Nome? Alessio Forte Da dove vieni? Avellino Macchina? X-Ray Motore? Nova Rossi Gomme? Hotter Race Miscela? MLC Come speri che vada alla tua finale? Beh, dopo le qualifiche andate male Speriamo di fare un'ottima finale Ma chi vuoi salutare Alessio? Mia madre e mio fratello che ci seguono da casa Nome? Faticati Antonio Da dove vieni? Rocca Devandro La tua macchina? Nt1 Motore? Nova Rossi Vincenzo Vizzamiglio Miscela? MLC Gomme? Hotter Race Come speri che vada alla tua finale Antonio? Spero di arrivare alla fine Chi vuoi salutare? Saluto mio padre Vincenzo Vizzamiglio Nome? Viaggio Da dove vieni? Nola La tua macchina? Caprico Il tuo motore? Nova Rossi Gomme? Hotter Race Miscela? MLC Come speri che vada alla tua finale? Viaggio Sono contento già di esserci A chi vuoi salutare? A guerra Nome? Simone Da dove vieni? Roma La tua macchina? Caprico Motore? Caprico Miscela? Runnel Time Bene Come speri che vada alla tua finale Simone? Bene, nonostante le qualità andate male A chi vuoi salutare? A un meccanico... Top Io ti saluto Nome? Giuseppe Da dove vieni? Caserta Machina X-Ray Motore? Nova Rossi Gomme? Hotter Race Miscela? MLC Come speri che vada alla finale Giuseppe? Una bella pasteggiata come al solito Chi vuoi salutare? Il mio meccanico Nicola e Biagio Esposito Lauri Grazie Grazie